Ciao! Questo è il nostro canale. Oggi vi faremo vedere il sale colorato. Ci serve il sale fino, poi dei barattolini, o se non avete i barattolini, i bicchieri di plastica e dei colori a spirito. Prima si mette il sale. Un po' per tutto. Un piccolo niente. Allora, poi scegliamo un colore. Io scelgo l'azzurro. E lei l'arancione e Goggia il marrone. Poi si miscola veloce finché non diventa di questo colore che abbiamo scelto. E' una procedura lunga. Perché se volete i colori chiari, allora dovete mischiare un po'. Se volete i colori belli, forti, dovete mischiare tanto. Invece di me l'arancione mi diventa un nido verde. Bene. Qua abbiamo fatto il sale colorato. Questo è il nostro sale. Un mischiare. Unidolo, fate estrarlo. Ora prendiamo i barattolini e mettiamo il sale che abbiamo composto. E siccome il barattolino non è stra pieno, ne facciamo ancora. E dopo una lunga procedura verrà come questo qui. Dopo una lunga procedura verrà come questo. Ciao!